Joe, Joevax, sono Joevaxful Le fottutissime imprese dello sciacallo Joevax Presto lo trasformeranno nel boss dei P2P Stai cercando del divertimento puro Stai con Joe, Joevax, sono Joevaxful Nella notte oscura il vostro amico Joevaxful Il beccionato fu Ok ragazzi, eccoci andiamo qua con Joevaxful Fortunatamente sono libero, vivo e becceto Sono tornato da Luca Comics Ho comprato la maschera di WU per vendetta E mi piace molto, l'ho pagato molto molto poco Stranamente, anche perchè tutti i prezzi erano abbastanza alti Ho visto comunque questa cosa E penso si sia fatto buio perchè la finestra La persiana si è abbastanza chiusa da sola adesso Cosa volevo dirvi ragazzi, è stata una bella esperienza Era il primo anno che ci andavo E volevo rendervi un po' partecipi anche a voi Di quello che ho fatto e quello che ho visto Quindi magari farò comparire qualche immagine qua e là Durante il video per far vedere quello che ho visto Non sono molte le immagini perchè era molto tutto di corsa Per vedere tutto c'era sempre bisogno di correre Non abbiamo avuto tempo di fare molte foto, molti video e altro Ho ancora il braccialetto Guardate un po' Luca Comics Eccolo qua Il braccialetto Ho fatto una foto Ho fatto una foto Se no faccio la figura del fesso Che altro farvi vedere Ho mangiato finalmente il ramen ragazzi Eccolo 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 Cosa altro Ho fatto una foto Il trono di spade Il trono di spade di Game of Thrones Era veramente figo A parte diciamo I personaggi che erano attorno al trono Non erano ben fatti sinceramente Comunque è stata veramente una bella esperienza Un sacco di cose Un sacco di fumetti Un sacco di stand È gigantesco Non ho potuto provare nessun gioco Volevo provarli Volevo magari fare qualche video con gameplay Ma era impossibile ragazzi C'era Watch Dogs Si poteva provare Ma c'era una fila incredibile Insomma È stata una bella esperienza Volevo rendervi un po' partecipi Di quello che ho fatto Ora Come ora Non mi viene in mente altre foto Che ho fatto io Ah L'ho fatta con i modellini di Gundam Insieme ai modellini di Gundam E anche con Ace Aspettate Vi faccio vedere Due foto così Sperando che c'entrano Comunque ragazzi Per questo video è tutto Da Joaxful è tutto Spero che chi ci sia stato come me Si sia divertito E insomma Vi sia piaciuto A me molto E il prossimo anno Comunque ci tornerò E forse farò anche un cosplay Vedremo A presto ragazzi Ciao 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 cailaughing